Buonasera, grazie a tutti, avete sentito le parole di Alberto. Alberto è molto generoso, quindi occorre sempre fare la tara quando parlano le persone generose. È stato Fontana, quello che ci ha parlato pochi minuti fa, qualche mese fa, a invitarmi ad assumere la presidenza di questa associazione, quindi è in un certo senso stato lui il Galeotto. L'ho accolto con alcune riserve di cui Alberto sa bene l'invito perché ho ritenuto che fosse giunto il momento nel nostro Paese di far uscire la nozione e soprattutto la cultura dell'economia civile dall'ambito strettamente accademico o genericamente culturale, al quale io sono razio materie legato al mondo più ampio che quello appunto dell'impresa. E quindi io mi compiaccio con tutti i soci che hanno dato vita a questa nuova realtà. Allora mi è stato chiesto, come si può immaginare, di illustrare i principi fondativi di quel paradigma che va sotto il nome di economia civile. E lo faccio prendendo le mosse da questa considerazione. Il 1753 è l'anno in cui l'Università di Napoli, Federico II, dà vita alla prima cattedra universitaria al mondo di economia. Quindi l'economia come scienza direi accademica nasce a Napoli, dunque in Italia, non come molti pensano in Inghilterra o in Scozia, eccetera. In Scozia c'era Adam Smith che aveva la cattedra di filosofia morale e quella cattedra, nata dal contributo di una persona intelligente toscana dell'epoca, viene battezzata cattedra di economia civile, 1753. E il primo cattedratico sarà Antonio Genovesi, che genererà una schiera di allievi e subito dopo questa filone di pensiero trasmigra a Milano. E a Milano trova le simpatie di Pietro Verri, di Gian Domenico Romagnosi, un po' meno di Cesare Beccaria, ma anche Beccaria, perché Beccaria era più interessato, come sapete, alla dimensione giuridica piuttosto che quella economica e così via. E poi dall'Italia, da Napoli e Milano, passa a Modena, all'Università di Modena, di Bologna e altrove, eccetera. Cosa succede? Che alcuni decenni dopo, nel 1776, Adam Smith, scozzese, pubblica la sua opera fondamentale, La ricchezza delle nazioni. E in quell'opera noi troviamo il distillato dell'altro paradigma, quello dell'economia politica. Una nota a piedi pagina. È ovvio che civile e politica fanno riferimento a due termini. L'uno, latino, civile, è l'aggettivo di civitas, politica è l'aggettivo di polis. Allora, polis è greco, civitas, parola latina. E uno si può chiedere, ma non sono la stessa cosa? Se noi andiamo nel dizionario e vediamo polis, viene tradotto con città, la città. E invece c'è una differenza enorme, perché il modello della polis è molto diverso dal modello della civitas. La polis greca, pensate alla polis di Atene, non era un modello inclusivo, ma tendeva ad escludere. Escludeva le donne, perché i greci pensavano che non avessero l'anima e quindi non potevano partecipare alla discussione della comunità. Non potevano prendervi parte, ad esempio, le persone analfabete. Terzo, i poveri. Quindi la polis greca non occupava più del 25, al massimo 30 per cento delle persone. Qual è la caratteristica invece del modello della civitas romana? Quello di essere inclusivo. I romani includevano, ti conquistavano, arrivavano qua e altrove. Se tu accettavi le regole del gioco diventavi romano come quelli che erano nati a Roma. Pensate quanti imperatori dell'impero romano non erano certamente romani. Erano nati, ad esempio, nel Nord Africa e così via. Ecco perché è importante questa sottolineatura. Perché l'idea dell'economia civile ci fa capire che c'è un modo di concepire l'economia, la sfera economica, come qualcosa che tende ad includere virtualmente tutti. Poi nei fatti conosciamo i vincoli e le difficoltà, però l'idea è che tutti devono poter partecipare al gioco economico e all'attività economica. Non così nell'economia politica. Chi ha studiato l'economia politica non tanto di Adam Smith, che era un filosofo quindi anche molto aperto, ma quelli che vengono dopo di lui, l'attività economica è per i più capaci, per i più, dopo si dirà, produttivi. Per cui se uno è portatore di handicap doveva essere tenuto escluso. Nel modello dell'economia civile tutti invece, anche quelli meno capaci e meno dotati, ovviamente adeguando alle loro condizioni le possibilità lavorative, eccetera. E questa è un'idea che ha radici ancora più antiche e troviamo nella scuola di pensiero francescana, tra il 1300 e il 1400. Quindi furono i francescani, a differenza dei domenicani, sapete che litigarono i francescani e i domenicani, perché i domenicani erano un po' più... I francescani dicevano che tutti devono lavorare. Vorrei dire che, e infatti furono loro a inventare la divisione del lavoro. Gli studenti all'università, a loro vengono insegnate tante, questa è la responsabilità dei miei colleghi, che insegnano le cose sbagliate, secondo me in buona fede. Si insegna loro che la divisione del lavoro l'hanno inventata gli scozzesi con Adelsman. Non è vero niente, furono i francescani. E la divisione del lavoro venne inventata perché i francescani dell'epoca dicevano che tutti devono poter lavorare. Quindi se io sono zoppo, se sono handicappato e non posso stare in piedi, vorrà dire che il processo produttivo dovrà prevedere delle fasi del processo stesso adeguate alla mia condizione. Non perché io sono cieco, devo essere tenuto fuori e mantenuto in vita con l'assistenzialismo diremmo oggi e così via. Quindi vedete che c'è un bisogno di recuperare perché ci siamo stati educati in maniera errata. Perché ci è stato fatto credere che gli inglesi non hanno inventato niente gli inglesi. Gli inglesi sono stati bravi nel prendere le nostre idee e questo è il limite di noi italiani e averle sviluppate. Detto questo, quali sono gli elementi basici che caratterizzano l'economia civile nel confronto con l'altro paradigma, quello dell'economia politica? Oggi i paradigmi sono questi due. Fino a 3, 25, 30 anni fa c'era il terzo paradigma, quello dell'economia marxiana. Ma dopo la caduta del muro di Berlino, oggi nessuno più parla del paradigma marxiano, per le note ragioni che non sto qui ovviamente ad illustrare. Allora, dei due paradigmi, quali sono le differenze fondamentali? Direi tre. La prima è legata all'assunto antropologico e questo è molto importante. Il paradigma dell'economia politica parte dall'assunto secondo cui, come diceva Thomas Hobbes, filosofo inglese, homo homini lupus, che vuol dire ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini. Thomas Hobbes, l'autore nel 1651 del Leviatano, un libro importantissimo, tutta la nostra, tutto sbagliato, quasi tutta la nostra teoria politica è legata al Leviatano di Hobbes. Per cui, siccome nello stato di natura ogni uomo è un lupo nei confronti dell'altro, cosa deve fare il soggetto razionale? Cosa facciamo noi nei confronti di un lupo famelico? I lupi quando hanno fame ti sbranano, ti guardano per i sottili. Dobbiamo difenderci secondo diffidare. E tutto il paradigma dell'economia politica è stato costruito su questo presupposto, che non possiamo affidarci alla bontà degli altri, come diceva Ada Smith, perché dobbiamo temere che l'altro, essendo un lupo, possa farci del male e soprattutto dobbiamo aumentare le nostre capacità di difesa. Adesso questo, evidentemente, è il nucleo duro, ma non ci vuol molto a capire le implicazioni e chi ha studiato economia ripensi a quello che ha studiato, vede, mettendo in controluce quello che ha studiato, che all'origine c'è questo pensiero. Qual è l'assunto antropologico da cui parte l'economia civile? Homo homini, natura amicus, che vuol dire ogni uomo è per natura amico dell'altro uomo. Vedete com'è diverso. Cioè dire che voi siete miei amici non vuol dire che non dobbiamo litigare, anche tra amici si litiga. Ma un conto è partire dall'idea che voi esistete per farmi del male, per sbranarmi, altro conto è dire no, ci deve essere una amicizia, quella che Aristotele chiamava l'amicizia civile, che ci unisce. Poi litigheremo anche, andremo anche in disaccordo e troveremo i modi per sciogliere questo. Però all'origine c'è un legame che ci tiene uniti. E questa allora è la prima differenza. E voi capite che se io costruisco la mia teoria economica o le mie proposte di natura economica su un assunto antropologico di questo tipo, arrivo a conclusioni diverse da quelle di chi parte dall'assunto obbesiano. Perché in questa prospettiva io devo dare fiducia agli altri, anche se non li conosco, pur sapendo che potrei essere anche tradito. Ma nonostante questo io do fiducia. E voi capite che chi opera nell'arena del mercato sa che la fiducia è l'ingrediente fondamentale. Nessuna economia di mercato può funzionare se viene meno la fiducia. Può funzionare senza le materie prime. Abbiamo esempi storici, noi siamo tra quelli noi italiani. Però non può funzionare perché senza fiducia non si siglano i contratti. E l'economia di mercato è un'economia contrattuale. Voi direte ma allora seguendo l'altro, è chiaro, pensate ai costi di transazione, parlate con i veri imprenditori e sentirete cosa vi dicono. Allora bisogna fare hedging, bisogna andare dall'avvocato, dal notaio a dire le vie legali qualora per sopperire alla mancanza di fiducia e così via. Questa è la prima differenza. La seconda differenza è nella concezione dell'imprenditore. Per l'economia civile l'imprenditore è un agente di trasformazione della realtà circostante. Per l'economia politica l'imprenditore è un soggetto che opera in vista della massimizzazione del profitto. Voi prendete un testo di microeconomia che viene insegnato con qualche eccezione in quasi tutte le facoltà, se non credete, quello che si dà in mano agli studenti al primo anno dei corsi di economia. Andate a vedere il capitolo che reca per titolo Teoria dell'impresa. Chi è l'imprenditore? L'imprenditore è il soggetto che miscelando opportunamente gli input per ottenere degli output che andrà a vendere sul mercato lo fa mosso dall'obiettivo della massimizzazione del profitto. Poi dopo qualcuno può dire c'è l'imprenditore un po' più buono, un po' meno buono e si scade nel moralismo. Per l'economista civile non è così, perché l'imprenditore è per sua natura un soggetto di trasformazione della realtà circostante. Noi qui siamo in casa di Olivetti. Insomma, quando io parlo in questi termini voi capite subito chi conosce la vicenda umana e l'imprenditore di Olivetti vede subito il collegamento con quanto sto dicendo. Che vuol dire che io mi sono sempre meravigliato perché gli imprenditori si lasciano giudicare solo in base alla loro capacità di generare profitto. Io a volte quando parlo non è che abbia la conoscenza che hanno altri, però diversi imprenditori ne conosco. Io dico ma perché siete così autolesionisti? Siete dei masochisti? Perché vi fate del male? Dico ma tu, imprenditore, quello che fai dalla mattina alla sera, è possibile che sia valutato o valutabile solo in base al profitto che generi? Dico ma tu fai solo così, tu fai molto di più perché agendo nel modo in cui agisci tu contribuisci a trasformare in un senso o nell'altro, su un fronte o sull'altro della realtà. Ecco allora il punto, che il paradigma dell'economia politica ha sempre sottovalutato il ruolo dell'imprenditore. Ovviamente se fossi qui un difensore dell'economia politica direbbe no, è vero invece e io sono pronto ad argomentare, a dimostrare portando fatti. Tant'è vero che per darne una legittimazione bisogna ricorrere ad argomenti di tipo esogeno. L'economista civile dice no, l'imprenditore è un vocato, cioè uno che agisce per vocazione, perché la vocazione non è mica solo quella religiosa, è che sia ben chiaro. L'imprenditore è uno che ha una vocazione e la sua vocazione è di contribuire a generare un cambiamento di progresso, perché non tutti i cambiamenti sono di progresso, ci sono anche i cambiamenti di regresso. L'imprenditore storicamente nasce con questa sua funzione. E l'economia civile ha sempre esaltato il ruolo dell'imprenditore, sempre, perché non si è mai accontentato, lo dico per l'ultima volta, di parametrizzare la sua opera solo sul piano della profittabilità. Che ci deve essere, ma è ovvio che ci deve essere. Forse che Olivetti non faceva profitto, quando inventano la Divi Summa. Andate a vedere i bilanci dell'epoca, quanti profitti. Quindi non è lì, però non era quella, si sarebbe rifiutato di ricevere un riconoscimento solo per la profittabilità. Infine, la terza distinzione tra i due paradigmi è che, mentre per il paradigma dell'economia politica il modello di ordine sociale è diadico, cioè è basato solo su due pilastri, che sono il mercato e lo Stato, il modello, il paradigma dell'economia civile fa riferimento e fa suo il modello triadico. Mercato, Stato, società civile organizzata. Quando anche recentemente parlando con dei colleghi mi dice, sai Olivetti, sì ha fatto le belle macchine da scrivere, però ha fatto degli errori, dico quali? È aver creato il movimento comunità. Dice, cosa c'entra che un imprenditore crei il movimento comunità e abbia fatto tutto il resto che non sto a ricordare perché lo sapete benissimo. E gli ho detto, caro amico, devo dire che sei un ignorante, anche se sei professore, perché sei ignorante, cioè non hai cultura, perché tu dai per scontato che l'unico modello di ordine sociale concepibile sia quello diadico fondato sul mercato e lo Stato. Il mercato deve produrre ricchezza, lo Stato deve provvedere a redistribuirla e a garantire il cosiddetto ordine pubblico, come si chiama, eccetera. Ma chi te l'ha detto che questo è l'unico modello? Ma non sai che questo modello fa acqua da tutte le parti ormai? Perché ha bisogno, un modello di ordine sociale vuol dire il modo in cui una società è organizzata, di un testo o un pilastro. Avete mai visto voi un tavolo che sta in equilibrio su due gambe? No, ha bisogno almeno di una terza gamba per mantenere l'equilibrio. E questa è la società civile organizzata, che può prendere nomi diversi a seconda dei contesti e delle circostanze storiche, ma che ha una funzione fondamentale, quella di interagire in maniera, come dicono i sociologi, emergentista, non additivista, con gli altri due. Cioè dire, l'idea dell'economia civile è che tu non puoi separare il mercato dalla società civile e pensare, infatti prima è stato detto, perché chi mi conosce lo sa, io non ho mai apprezzato l'espressione terzo settore, oppure non profit. L'espressione terzo settore è stata accogliata in Francia da Jacques Delors, in un saggio del 1981, nel corso del quale lui usò per la prima volta Troisienne Sector. L'espressione profit non profit invece è di origine anglosassone, Inghilterra è America. Noi italiani, nella nostra tradizione, nel nostro ordine non abbiamo mai avuto questo, perché non abbiamo mai visto un settore contro gli altri. Già il termine settore non so, noi parliamo di dimensioni, non di settori. Cioè la dimensione del mercato, la dimensione dello Stato e la dimensione della società civile devono interagire fra di loro in maniera sistematica e non casuale, una volta ogni tanto, realizzando quello che oggi ormai sta prendendo piede, va sotto il nome di sussidiarietà circolare. Ho detto circolare, non orizzontale, per colpa sempre dei professori, che andranno all'inferno, perché non si può insegnare le cose se non si sanno. Nessuno è obbligato a sapere tutto, ma un professore non può andare in cattedra e far credere che quel che dice è frutto di quando invece non è vero. Perché la prima formulazione del principio di sussidiarietà circolare emerge alla fine del 1200, ad opera di Bonaventura da Bagno Regio, che insegnava filosofia alla Sorbona di Parigi, fine del 1200. Quella è la vera sussidiarietà. La sussidiarietà verticale e orizzontale sono versioni riduzioniste, cioè meglio che niente. La vera sussidiarietà è quando tu fai in modo che questi tre pilastri fra di loro interagiscono, ognuno rispettando la propria autonomia, sulla base di un rapporto dialogico dal quale vengono fuori non solamente le informazioni, ma le decisioni in merito alle priorità e ai modi migliori per gestire le situazioni che si presentano. Ecco allora dov'è la terza differenza? L'economia civile dice non basta il mercato da solo, isolato dal resto. Così come non basta lo Stato, perché in effetti se voi vedete fino a tempi recenti anche nel dibattito politico l'alternativa era tra neoliberismo o neostatalismo, a seconda delle simpatie, chiamiamole politiche. Se uno stava più dalla parte sposava le tesi neoliberiste. Se aveva simpatie di altro colore politico le tesi neostataliste. Ma noi abbiamo visto dove ci ha portato il passare come il pendolo di Foucault dal neoliberismo al neostatalismo. Perché la soluzione, soprattutto dei problemi più seri, va trovata all'interno di quel dialogo circolare tra... e questo è un modo secondo me corretto di difendere, ma non nel senso della difesa giudiziaria l'opera di Odriano Olivetti. Che queste cose le aveva capite tutte. Ecco perché crea il movimento comunità e anche il suo progetto politico. Non è come quello, come qualcuno dice, di fare un partito per conquistare il potere. Non è stato capito. E per non essere stato capito ha pagato di persona, come ben sappiamo, in tutti i sensi e così via. Ecco allora, l'ultimo punto è, se queste sono le differenze che contraddistinguono i due... ovviamente i due paradigmi hanno molte cose in comune, ma è evidente questo. Questo non c'è bisogno neanche di dirlo. Ecco, se queste sono le differenze, come mai nell'ultimo quarto di secolo, al modo di un fiume carsico, il paradigma dell'economia civile, che era stato messo da parte per oltre due secoli, a seguito della dominanza dell'altro paradigma, sta riemergendo? Questa è una domanda interessante. Cioè, perché oggi, soprattutto in Inghilterra e in America, non si riesce a stare dietro alle loro richieste delle più prestigiose università? Perché tutti gli iscritti di economia civile vengono subito tradotti in inglese? Ditemelo voi. E loro pagano. Pagano le spese di traduzione, di pubblicazione, eccetera. Perché la civil economy oggi è sulla bocca anche di diversi premi Nobel americani, eccetera. Questa è la domanda. Cioè, come mai sta riemergendo? E la risposta è quella che più o meno possiamo immaginare. Che da quando si è affermato il fenomeno di portata epicale che chiamiamo globalizzazione da un lato e terza e quarta rivoluzione industriale dall'altro, sono emerse problemi, come era ovvio che dovesse accadere nuovi, rispetto ai quali il paradigma dell'economia politica non è in grado di offrire soluzioni. È inutile negare, perché è così. La crisi del 2007-2008, perché non è stata anticipata? Vi ricordate la domanda della regina d'Inghilterra, quando nel 2010 va a trovare gli accademici della London School of Economics? Gli dice, ma perché voi che di mestiere fate gli econometrici, fate quelli che fanno le previsioni, eccetera? Non dico risolto, ma non avete saputo anticipare. Quelli che studiano la meteorologia anticipano. Dice, fra un po' ci sarà il ciclone, prendiamo. Quelli no, quelli sono stati zitti, perché ha dato loro degli incapaci. E dice, ma siete migliaia in giro per il mondo, ricevete tanti di quei soldi per i vostri progetti di ricerca, allora cosa state a fare? Neppure si è stato in grado di capire che la speculazione finanziaria, la bolla speculativa, aveva raggiunto una dimensione tale che anche un bambino avrebbe capito che bastava una puntura di spillo per farla esplodere e così via. Perché se fosse stata anticipata non avremmo sostenuto tutti i costi, di cui sappiamo noi, anche noi italiani, siamo ben consapevoli e così via. Ecco allora, pensate al problema dell'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze nella distribuzione. Guardate che quello è un problema serio, perché non è solo un problema in chiave etica, come molti credono. C'è anche la dimensione etica, ma è di natura economica, perché oggi anche il più scassato degli economisti nel mondo sa che quando la diseguaglianza supera in un paese o in un contesto una certa dimensione, è il meccanismo di mercato stesso che si inceppa, per essere brutali. Perché se aumenta la diseguaglianza, chi vendono le imprese? I loro prodotti. Uno potrebbe dire ai più ricchi, ma i ricchi sono l'1%, come fai? Ricordate Henry Ford che aveva deciso di aumentare i salari ai propri? Non per generosità, perché dice così se aumenta i salari, questi comprano le automobili e io realizzo le economie di scala, eccetera, eccetera. Quindi l'aumento endemico delle diseguaglianze è più serio di quanto non si creda. E se non si cambia paradigma, non c'è modo, perché la redistribuzione ad opera dello Stato qualcosina può fare, ma non più di tanto. Anche perché il tasso di pressione tributaria, come tutti sanno, non può certamente aumentare. anno dopo anno. Anzi, devi diminuire, come sappiamo. E allora, come fai a non tenere conto di quei, di non capire che l'aumento della diseguaglianza distrugge il mercato? Questo, a dir il vero, l'aveva già capito Adam Smith, perché era intelligente. Perché lui ce l'aveva con i monopoli. Diceva, state attenti, perché il monopolista distrugge il mercato. Perché il mercato ha bisogno di competizione. E dove c'è monopolio e oligopolio non c'è competizione. Senza competizione non hai l'economia di mercato, hai l'economia di comando, che dopo diventerà di tipo sovietico, come sappiamo. Perché Lenin aveva studiato l'economia politica, aveva imparato tutto, come peraltro Marx, come sapete. E solo che anziché metterci il monopolista ci ha messo il partito, ma la logica era esattamente la stessa. Quindi se vogliamo che il meccanismo di mercato continui ad operare e produrre risultati di benessere, bisogna essere attenti. Chiaro che l'eguaglianza nel senso letterale non ci sarà e non è neanche un bene. Però un conto è questo e un altro conto è vedere. Secondo, la questione ecologica. Non sto a spendere parole su questo perché ormai... Ma il problema ecologico è più serio di quanto non si crede. Qui abbiamo un fontana con la lega ambiente, ma tante altre associazioni si stanno battendo su questo. Perché il problema ecologico non è solo un problema di distruzione delle risorse, è un modo di concepire il processo economico che è antagonista, in questo caso, nei confronti della natura. Ma ricordate quello che diceva già Newton, se tu ti metti contro la natura, la natura vince, vince sempre lei. Quindi attenzione, ci vuole un'alleanza uomo-natura per ottenere i risultati di ottimalità che vediamo. Il terzo grosso problema che il paradigma dell'economia politica non riesce a risolvere è pure molto delicato. È quello che riguarda la democrazia. Vedete, fino a tempi recenti le economie di mercato, di tipo capitalistico come si dice in breve, sono sempre state associate alla democrazia. Come una medaglia che ha due facce. C'è l'economia di mercato e di là alla democrazia. E noi siamo venuti su pensando che non ci potesse essere un'economia di mercato florida e fiorente senza una democrazia nelle forme che possiamo immaginare. Qual è la novità di questo nostro tempo? Che questo legame si è rotto. Cioè si può adottare l'economia di mercato di tipo capitalistico senza la democrazia. Esempi li sappiamo. La Cina, l'India, la Turchia e via discorrendo, sud-est asiatico. Quelli sono paesi dove non c'è democrazia ma c'è l'economia di mercato. E quindi i valori cosiddetti occidentali non sono più ritenuti necessari, i cosiddetti valori occidentali, per la permanenza e la fioritura di questo modello di ordine sociale. E questo è un problema molto serio. Perché mentre i paesi orientali, che non hanno mai avuto la democrazia nella loro storia, mai, anche nei secoli passati, possono, e questo spiega il successo della Cina, perché molti sono un po' superficiali, ma il problema della Cina a che cosa è dovuto? Che Deng Xiaoping, molti anni fa, ha capito questo. Dice noi, alla nostra gente della democrazia e della libertà non interessa più di tanto. Adottiamo le metodiche, gli strumenti dell'economia di mercato occidentale, però noi manteniamo il controllo rigido nelle mani del partito, del partito unico, il partito comunista. E' chiaro che lì non ci sono scioperi, i salari non sono definiti per via politica e non per via economica, e non ci vuole molto in quelle condizioni a pensare un tasso di incremento del 5, 6, 7, 8% all'anno del PIL e così via. Ma la domanda è cosa succederà quando fra un po' di anni anche quella gente comincerà a stufarsi, perché voi capite che io posso tenere ferma la protesta riempendo, come si dice in gergo, lo stomaco della gente, ma quando poi lo stomaco si è riempito, l'essere umano ha bisogno di libertà, nessuno può durare. Certo, se partiamo da situazioni di livelli molto bassi, l'affamato non chiede la libertà, ti chiede subito il pane, ma quando si è sfamato comincia a chiederti la libertà. E la domanda è cosa succederà quando quelle popolazioni chiederanno, dopo aver raggiunto livelli di benessere materiale più o meno analoghi ai nostri, chiederanno la libertà. E allora se noi non riusciamo a trovare una risposta antetempo, i rischi sono forti, perché quelli non sono paesi piccoli. Tra India e Cina arrivano a circa 40% dalla popolazione mondiale. E quindi non possiamo fare spallucce. Noi dobbiamo, e purtroppo su questo fronte l'economia politica non è in grado di offrire, perché l'economia politica nasce all'interno di una particolare concessione nella quale si dava per scontato che la democrazia fosse in Reipsa. Non è casuale che sia nato in Inghilterra. E poi in America, l'unico paese al mondo che non ha mai avuto dittature e via discorrendo. Ecco allora di fronte, ce ne sono altri, di nodi, ma questi tre sono più che sufficienti a farci capire perché oggi le attenzioni crescono nei confronti della capacità del modo di vedere e di pensare dell'economia civile di offrire nuove risposte a questi nuovi problemi. Diversamente, voi capite, il rischio è o il ristagno o, peggio ancora, quelle forme che vanno sotto i nomi di populismo, perché c'è il populismo di destra e il populismo di sinistra. Perché quando la democrazia entra in crisi, non è che il meccanismo democratico si inceppi, le elezioni, solo che viene dominato quel meccanismo da quelle istanze di natura populistica di cui si appena. E il populismo è serio. Perché il populismo è quella corrente di pensiero che afferma che il popolo non è una categoria sociologica o politologica, ma è una categoria morale. Che vuol dire il populista crede che la verità è nel popolo e il leader è colui il quale interpreta la volontà. Che vuol dire che il populismo è il nemico dichiarato della libertà. Allora, se noi amiamo la libertà, dobbiamo stare attenti, perché quando si affermano idee di questo tipo, è facile immaginare il cosiddetto slippery slope, il piano pendente dove si va a finire e così via. Sto finendo il mio tempo, quindi devo concludere. Come alcuni sanno, io stesso, che pure ho studiato economia a Milano, nessuno mi aveva mai parlato in quegli anni e anche in quelli successivi di economia civile. Io ho scoperto questo termine per puro caso 23 anni fa. Escrissi un articolo, che è pubblicato quindi si può andare, in cui usai per la prima volta l'espressione economia civile. E dovetti lottare perché l'editore voleva che io scrivessi economia civica e questo dice, ma non esiste. E così, alla fine, a forza di insistere, è passato. All'inizio le difficoltà sono state, potete immaginare, tante, perché la gente dice, ma che cos'è? Quando manca la conoscenza anche in chiave storica, è facile arrivare a conclusioni di quel tipo. Oggi, però, già è stato ricordato, quindi non sto a ripetere, è appunto diffusa. Ed è per questo che un'associazione come quinto ampliamento, a mio modo di vedere, è importante, l'ho detto all'inizio. Perché non è compito di questa associazione portare avanti la elaborazione teorica e di pensiero. Altri devono dedicarsi. Però è importante trovare un luogo dove si possa dimostrare concretamente che la traduzione in pratica di quei principi o elementi fondativi, i tre di a cui facevo parola a poc'anzi, possono realizzarsi. E che quindi applicare quei tre principi non vuol dire rinunciare al successo, all'approfittamento. È il contrario. Se ne ottengono di più, di risultati positivi, eccetera. Però, per convincere, come noi sappiamo, bisogna che le persone tocchino con mano. È difficile che uno possa cambiare la propria visione delle cose solo per via cognitiva. A qualcuno succede, ma non è frequente. I fatti sono molto più capaci di provocare una trasformazione che a volte tante idee che però ci vogliono l'una e l'altra. E nel concludere, mi piace sempre ricordare che, perché qualcuno dice, voi siete tradizionalisti perché vi legate. No. Il punto è che la tradizione è la salvaguardia del fuoco, non la conservazione delle ceneri. Perché chi conserva le ceneri è un conservatore. Invece, il modo corretto di interpretare e di usare la tradizione è quello appunto di riaccendere continuamente il fuoco. Se fosse vivo oggi Adriano Olivetti, io sono sicuro ragionerebbe in questi termini. Non farebbe le stesse cose che in quel contesto storico o fu costretto o decise di fare. E voglio chiudere con una frase che di un autore americano si chiamava Thomas Merton, che Adriano Olivetti piaceva, lo so per certo. Thomas Merton, morto diversi anni fa, autore di tanti libri. Uno di questi ha per titolo Nessun uomo è un isola, tradotto in italiano già negli anni 50, nella metà degli anni 50. E termina questo libro, Thomas Merton dicendo, il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente. A noi la scelta, sapendo che se ci sfugge come sabbia, questa cadendo al suolo produce nulla. La semente invece, quando cade al suolo, presto, tardi, tanto poco, sempre genera frutto. Ecco, questo è l'augurio che possiamo farci reciprocamente perché questa nuova associazione possa presto mettere ali per volare alto, senza però mai dimenticare le radici. Le ali e le radici devono procedere alla stessa natura. Come nel Fedro, Platone ci ricorda, il solco sarà diritto se i due cavalli che trainano l'aratro marciano alla stessa andatura. Nell'antica Grecia, chi trainava l'aratro non erano i buoi, come da noi, ma i cavalli. Perché se un cavallo va più veloce dell'altro, il solco piega o a destra o a sinistra e il raccolto non sarà abbondante. Ecco loro i due cavalli. Le radici, che dicono di una adesione ad una tradizione di pensiero, ma una tradizione interpretata come salvaguardia del fuoco e non come conservazione delle ceneri, e le ali che dicono della capacità di intercettare i moti ascendenti dell'aria. Questo è l'augurio sincero che ci facciamo reciprocamente nei confronti di questa appena nata associazione del quinto ampliamento. Grazie. Grazie Stefano, grazie bravissimo.